Queste sono le sette cose che dovete sapere prima di venire qui in Argentina. Inflazione. Dovete abituarvi ad un'inflazione terribile in questo paese. Conseguenza aumento dei prezzi, stipendi che sono sempre gli stessi, problemi anche quindi per chi dà servizi e vende prodotti. Poi c'è anche il discorso della rottura di balle, dell'aumento della cotizzazione peso-dollaro, che va sempre peggio. È anche difficile poter fare delle previsioni sul futuro. Per far fronte a queste cose ci sono cose tipo la canasta basica, che è una specie di cestone di prodotti che si possono trovare al supermercato, quindi tipo di cibo, di diversi tipi, non so, pane, farina, mate, che il cui va tanto. Poi quest'anno hanno messo anche una roba tipo la carne, però la carne era una cosa schifosa, quindi mi sembra che sia proprio una presa per i fondelli. A parte che già la carne al supermercato, qui no, anche no, a meno non essere disperati di andare a mangiare la carne, perché se no è meglio lasciar perdere. Allora, se avete il vostro bel stipendio in euro, tenetevelo stretto. Quindi se dovete andare a ritirare i soldi in banca, non fatelo in banca, non mettete la carta dentro per poi ritirare i soldi, perché vi daranno un limite. Non so, credo che fosse 8.000 pesos, una roba del genere, 8.000 pesos saranno 2, 4, 6, 8, 40 euro. Sono 40 euro che potete ritirare, più spese che sono circa 5 euro di spese, erano 8, 900 euro fino a un po' di tempo fa, qui aumenta sempre la cotizzazione con il dollaro. E quindi non fatelo, fatelo con quello che vi consiglio io, o TransferWise o Western Union. Andate a vedere perché Western Union vi dà la cotizzazione del dollaro al blu, o molto vicino al blu, quindi per ogni euro vi danno circa 190 pesos, cosa che la banca ve lo potete anche scordare. Se invece non avete possibilità di farlo perché avete tutti i soldi in cash e in contanti, allora andate alla cash, alla strada Florida di Cava e lì fate il cambio. Però attenti a chi vi cambia i soldi, perché oltre sono un po' i furbetti. Argentina, paese federale, però come paese federale non è tanto federale perché è centralizzato tutto su Buenos Aires. Ogni provincia ha una sua autonomia, dovrebbe essere completamente autonomo, però se cerchi una roba in una provincia devi andartela a pescare in Cava praticamente. Perché quindi se sono province tipo Cava, la capitale federale, Buenos Aires, Cordoba e altre poche delle province più grandi, allora sì, si trova tutto. Se no direttamente sempre solo Cava. Allora, mezzi di trasporto, limitati i treni per Cava, Buenos Aires e alcuni percorsi specifici. Ad esempio, Buenos Aires Tucumán, Buenos Aires Mar del Plata per andare al mare, ad esempio, e poi altri percorsi specifici come quello di Salta, che è il treno sulle nuvole e poi il treno della fine del mondo che si trova esattamente giù al sud, a Ushuaia, però quelli sono percorsi specifici. Poi tornando ai mezzi di trasporto, potete prendere i pullman a larga distanza oppure l'aereo ovviamente, mentre per Capital Federal c'è anche la pre-metro, il pre-metropolitana, la metropolitana, gli autobus e che ci sono sia a Capital Federal che nelle altre province del paese. Mercato del lavoro. Se non siete residenti lasciate perdere. Se avete possibilità di avere un lavoro direttamente dall'Italia, molto meglio. Se no, qui sarà un po' difficile perché non vi potranno prendere in maniera legale. Quindi dovreste fare una specie di documentazione per farvi prendere in maniera legale, fare una specie di documento temporale per poi farvi assumere. Oltretutto, se venite qui, il titolare dell'azienda che vi dovrebbe prendere deve essere iscritto a Migrationes, praticamente sotto una categoria in cui dice che il vostro titolare può assumervi. Non come è successo a me, che praticamente mi hanno preso in giro per circa un anno, un anno e mezzo, in una gelateria. Una che si trova a Cava, che era Cordoba e Cacao. Cacao Cordoba, quasi sull'angolo. Oltretutto è stato anche un italiano a prendermi per i fondelli, ma non mi ricordo neanche il suo nome. E questo qua praticamente, sì, sì, facciamo il documento, ti mette in regola. Era tutta una presa in giro. Poi alla fine di tutta questa storia, prima che praticamente lasciassi il lavoro, perché già non era possibile andare avanti con quella situazione, si sono inventati di una specie di furto-assalto della borsa con i documenti, del telefono nel negozio e poi magicamente questo telefono è riapparso due giorni dopo, come se fosse niente, però intanto la presa per i fondelli era già stata fatta. Ebbene, per il video di oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto, sapete come contattarmi e seguitemi su Instagram, su YouTube, mettete un like, commenti, suggerimenti e quant'altro. Ci vediamo alla prossima dall'Argentina. Ciao, ciao!